e inizia il nostro viaggio all'interno delle aziende del carpi fashion system siamo dunque a carpi all'interno della fabbrica del lino insieme a monica bergianti e luca pagliani buonasera per parlare di questa azienda che è attiva pensate dal 1965 ma negli ultimi dieci anni ha fatto un grande salto in avanti raccontiamo questa storia e questa nuova identità che ha portato alla realizzazione di lf dl che sta appunto per la fabbrica del lino assolutamente vero dal 1965 produciamo prodotti tessili in generale quindi uomo donna bimba e diciamo da dieci anni biancheria per la casa e in una prima fase noi realizzavamo prodotti per altri quindi quello che in gergo si chiama private label e da dieci anni abbiamo deciso di avere un marchio nostro allo stato attuale la fabbrica produce solo il proprio marchio per cui siamo arrivati un po quello che era il nostro sogno realizzare prodotti per noi e rivenderli attraverso una rete commerciale che abbiamo strutturato tramite diciamo negozi multi brand che acquistano il nostro prodotto e un paio di negozi monomarca diciamo che hanno tutti i nostri prodotti una fabbrica possiamo dire a chilometri zero assolutamente il concetto è reale questo nel senso che da noi arrivano i tessuti che diciamo studiamo insieme ai nostri produttori di tessuti abbiamo anche alcune macchine e poi tutta l'altra fase viene realizzato all'interno di questa struttura per cui con taglio confezione la tintoria tutto quanto quindi realizziamo prodotto su misura pensato per un cliente che ha necessità di prodotti di eccellenza e allora visto che la trasmissione si chiama trend io sto indossando un capo cosiddetto trendy per la prossima per questa primavera estate realizzato proprio da voi assolutamente così il prodotto lo definiamo natural chic questa immagine molto naturale con un processo produttivo assolutamente in linea con questo standard anche perché diciamolo in lino che ben si presta alla primavera estate voi quindi sul discorso abbigliamento puntate molto sulla stagione estiva lavoriamo in europa diciamo il 60 per cento della produzione viene realizzata appunto in estate perché il marchio è caratterizzante la fabbrica del lino nella biancheria non c'è questo problema perché comunque si vende lino da sempre c'è le tovaglie diciamo di lino sono il prestigio massimo durante il periodo di natalizio e diciamo già da tre da tre collezioni realizziamo anche un prodotto invernale che comunque vale una parte minore rispetto alla produzione che facciamo di lino da alcuni anni siamo all'estero proprio per poter vendere lino un po tutto l'anno diciamo il caraibi è il nostro maggiore mercato di riferimento oltreoceano una grande possibilità si parla di alta artigianalità quindi che fa riferimento a un distrito importante come quello di carpi perché ricordiamo che per ognuno di questi prodotti c'è dietro un grande lavoro c'è un grandissimo lavoro proprio perché noi andiamo verso il cliente cerchiamo di fare quello che serve abbiamo creato una linea dedicata al su misura quindi facciamo piccole produzioni che non sono settoriali quindi non facciamo un capo alla volta perché non siamo rivolte al cliente finale però siamo rivolte al negozio che vuole essere caratterizzante e caratterizzato anche nei suoi prodotti quindi massima attenzione al cliente alcuni modelli vengono realizzati noi richiamiamo barra 1 barra 2 barra 3 sono delle peculiarità di quel singolo negozio per cui il negozio può avere assolutamente un prodotto che nasce da una situazione storica importante che poi viene declinato per quello che è l'esigenza del singolo negozio un'azienda un prodotto non banale come avete deciso lei e sua moglie di mettere su questa azienda ma guardi è nato un po per caso oggettivamente abbiamo pensato di fare le cose che servivano ci hanno guardato un po intorno e la nicchia di mercato per un prodotto diciamo che viene prodotto in italia quindi con dei costi abbastanza importanti rispetto alla dinamica delle produzioni fuori fuori dall'italia dovevamo dare un servizio quindi dovevamo capire cosa serviva al negozio abbiamo fatto un'indagine abbiamo capito che il negozio aveva necessità di questa di questa personalizzazione proprio per scostarsi dai prodotti che aveva già magari l'importazione e abbiamo iniziato a fare questo tipo di servizio al momento ci premia parecchio anzi molte volte fa la differenza quello che fa proprio la differenza avere dei prodotti essere sul punto vendita addirittura ci chiamano loro quando hanno delle idee e ce le propongono noi facciamo altro che realizzarle siamo essenzialmente artigiani e grossi artigiani quello che ci piace dire una struttura importante che ci può che può esportare in tutto il mondo perché ha le competenze alla struttura e tutto ma con finalità tipiche dell'artigiano quindi fare una cosa è su misura direi che i capi ce li abbiamo già siamo pronti per affrontare l'estate del mondo migliore grazie 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 grazie